benvenuti al corner store sanitech presso la nostra struttura il prodotto che vi vado a presentare oggi il nuovo prodotto nato in casa sanitech che è sunny air geyser sunny air geyser è un prodotto a base alcolica che prevede una gittata di 4 metri capace di espandersi nell'ambiente che possono essere ambienti molto grandi come sale d'attesa sale riunione oppure aule di scuola permettendo in modo tale al prodotto stesso di igienizzare e pulire senza alcun risciacquo il prodotto rilascia una profumazione molto gradevole capace di persistere nell'ambiente per 24 ore l'ambiente deve essere completamente vuoto quindi non ci devono essere persone o animali basta spruzzare da destra verso sinistra inclinando verso l'altro erogatore e andando all'indietro quindi uscendo dalla stanza poi basta aprire far ariaggiare per un 10 minuti e l'ambiente igienizzato sono igienizzati sia tutte le superfici che le componentistiche che potrebbero ritrovarsi nell'ambiente